Dal primo marzo in Campania tutti gli studenti di qualsiasi ordine e grado sono tornati nuovamente in didattica a distanza. Lo ha deciso la Regione Campania con un'ordinanza emessa nella giornata di sabato. Lo stop alle elezioni in presenza è previsto fino al 14 marzo. Durante un'intervista su Rai Play Radio, l'assessore all'istruzione alle politiche giovanili e politiche sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, ha affrontato il tema della chiusura delle scuole del piano di vaccinazione. La necessità della chiusura sembra essere nata da una serie di incontri con l'unità di crisi della Regione rispettosi al numero dei contagi che sono stati rilevati all'interno delle strutture scolastiche per la presenza in molte scuole della variante inglese, sia per il piano di vaccinazione che in Campania sta procedendo in maniera spedita. C'è la necessità di preservare anche il personale scolastico, ha dichiarato l'assessore Fortini, per fare in modo che lo sforzo in termini di vaccinazione non sia reso vano per il proliferare del virus. Noi contiamo, ha aggiunto, che entro il 14 marzo sia chiuso il piano vaccinale per il personale docente e devo dire che la scuola sta rispondendo benissimo a quello che è stato il richiamo del nostro presidente. Dai dati emerge che per quanto riguarda il personale docente non sono 150.000 coloro che hanno compilato la preadesione, 120.000 che hanno completato l'adesione e 50.000 sono stati già vaccinati. A quel punto, ha concluso Lucia Fortini, messo in sicurezza il nostro personale, riteniamo si possa ricominciare in maniera graduale. La strategia della regione Campania è sempre stata quella di prevenire anziché di seguire quella dell'evolversi del virus, quindi ricominciare in presenza con vari ordini e gradi di scuola. Tra le domande poste all'assessore e all'istruzione è emersa se gli studenti stanno studiando seriamente o hanno perso l'abitudine di studiare con la didattica a distanza. I nostri studenti, ha sottolineato Fortini soprattutto e più grandi, quelli della secondaria di secondo grado, stanno studiando, si stanno impegnando. Io non finirò mai di dire che la scuola campana non è mai stata chiusa, abbiamo sospeso l'attività di didattica in presenza, ma la didattica a distanza sta funzionando e anche molto bene. Bisogna ricordare che oggi c'è la sospensione per tutti gli ordini e gradi, ma di fatto ha funzionato a singhiozzo, perché è evidente, soprattutto con la variante inglese, che un solo caso comporti la sospensione per tutta la classe e talvolta per tutte le scuole. Ritengo che questo possa essere addirittura peggio. È evidente che siamo di fronte a una pandemia e dobbiamo rispondere con quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione. Per quanto riguarda i ricorsi, Lucia Fortini ha affermato che sicuramente non mancheranno, ma allo stesso tempo è convinta che il TAR stavolta supporterà la decisione, mentre per quanto riguarda gli invalsi dovranno capire come si procederà rispetto al virus. Il TAR, infatti, ha dato regione alla regione campagna e rispinto i ricorsi contro la chiusura delle scuole fino al 14 marzo. Tra le ragioni della decisione, la campagna vaccinale del personale scolastico, ma anche la preoccupazione per la diffusione della variante inglese del Covid-19. La pandemia ci ha insegnato che le previsioni a lungo termine siano complicate da fare, ha concluso l'assessore Fortini.